Urbanistica, nuove opportunità di lavoro. Il lavoro è sicuramente una delle attenzioni più grandi che ha avuto questa amministrazione. Per questa ragione abbiamo avviato un progetto che si chiama il PIP 5, in sostanza si tratta di 80 mila metri quadrati di nuove aziende. Queste daranno 590 posti di lavoro e una rete infrastrutturale al servizio di questi nuovi capannoni. Allo stesso tempo il progetto ci darà una nuova caserma per la protezione civile e per i vigili urbani. Un progetto quindi legato allo sviluppo e legato ad azioni concrete per aumentare l'occupazione sul nostro territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.